eccomi eccolo l'ultimo abbraccio di arcos editore il 22 novembre tutte le librerie italiane ed è possibile per notarlo ordinarlo attraverso gli store online come amazon mondadori e tanti altri penso al mio primo romanzo e per me come un figlio ci ho messo una vita a descriverlo anni a volte l'ho abbandonato poi l'ho ripreso e poi diciamo che ho sacrificato gli ultimi 60 o 70 weekend per portarlo a termine un libro che farà riflettere molto e parla di bambini parla di anziani parla di cuori parla di rivincere di riuscita non vi dico altro perché altrimenti tolgo il gusto di leggerlo lo presenterò in tutte le città più importanti per tutte le notizie www.ultimoabbraccio.it e avrete gli aggiornamenti sul tour che sto per iniziare in tutta italia la prima presentazione il 24 novembre a roma presso l'nh hotel in via dei gracchi alla prossima